Si riparte dagli 8.385 voti di Angelo Antonio Angarano e dai 6.768 di Gianni Casella. Da questi risultati emersi dalla consultazione del 10 giugno, si ripartirà domani, nel giorno che dopo altre due settimane di campagna elettorale, decreterà il nome del primo cittadino di Biceglie. Come spesso affermato durante la campagna elettorale dai due candidati, si ripartirà da 0 a 0, anche se va comunque registrato l'appoggio di Tonia Spina per Angarano e quello di Vittorio Fata per Gianni Casella. Oltre che a Biceglie, le urne in Puglia saranno aperte dalle 7 alle 23 anche a Brindisi, unico comune e capoluogo interessato al voto, dove si sfideranno Roberto Cavalera, candidato del centrodestra che ripartirà dal 34,7% del primo turno, e Riccardo Rossi del centrosinistra che al primo turno ottenne il 23,5% dei consensi. Gli altri comuni della regione interessati al voto sono San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, dove si sfideranno Mario D'Ambrosio per il centrosinistra e Costantino Ciavarella per il centrodestra, Altamura con la sfida tra il civico Giovanni Saponano e la candidata del centrosinistra Rosa Melodia, Mola di Bari dove si confronteranno i due candidati del centrodestra Giuseppe Colonna e Stefano Di Perna, Conversano che vedrà sfidarsi i due candidati del centrosinistra Pasquale Loiacone e Pasquale Gentile, Casa Massima con il confronto tra il civico Giuseppe Nitti e il candidato di Fratelli d'Italia e Forza Italia Agostino Mirizio, Noci che vedrà opposti Pietro Liuzzi per il centrodestra e Domenico Nisi per il centrosinistra, Franca Villa Fontana con in campo il duo civico Maurizio Bruno e Antonello De Nuzio e Oria con il confronto tra Maria Carone, candidata di ispirazione civica, e il candidato del centrodestra Giuseppe Carbone